Agevolazioni, doganali, vantaggi fiscali, mano d'opera qualificata in loco e un mercato in forte espansione dove è molto alta la richiesta di prodotti e tecnologie italiane. La Bielorussia si apre sempre più all'Italia e alla Puglia in particolare. Per far conoscere le nuove opportunità di investimento e il sistema delle cosiddette zone franche di Brest e di Grodno, la Camera di Commercio di Bari in collaborazione con la Camera di Commercio Italia Belarus ha organizzato un convegno con l'intento di mettere insieme domanda e offerta. Un appuntamento interessante aperto a operatori, investitori e rappresentanti di categoria. Tra gli ospiti anche il consigliere commerciale dell'ambasciata belorusse in Italia. Per noi il made in Italy significa non solo la moda o prodotti agroalimentari ma anche prodotti di alta tecnologia e le tecnologie stesse. Quindi speriamo che gli imprenditori puliesi possano fornire alla Bielorussia sia prodotti tipici della zona sia prodotti dell'eccellenza italiana. Per Claudio Catania, presidente della Camera di Commercio Italia Belarus, si tratta di un'opportunità decisamente interessante per le nostre imprese che grazie al ponte con la Bielorussia potrebbero allargare i loro orizzonti commerciali su un'area molto più vasta. Si fa una zona franca per le imprese italiane che vogliono lì investire e quindi realizzare i loro prodotti lì per poi diciamo da lì conquistare questo mercato che non sono i 10 milioni di bielorussi ma diventano i 200 milioni tra bielorussi, kazakhistani e russi. Quindi un mercato molto ampio che potrebbe essere appetibile.